Seconda parte di 7 in punto, parliamo ancora una volta di Venezia, inevitabile, il cuore un po' pulsante di tutto il nord-est e soprattutto attraverso Venezia passano anche un po' quelle che sono le dinamiche gestionali dell'intera nazione, un po' una cartina di tornasole dell'Italia nella sua interezza e per parlare di Venezia, Carnevale in arrivo abbiamo titolato la trasmissione perché Carnevale alle porte, abbiamo Claudio Scarpa direttore dell'associazione veneziana al Bergatori, buongiorno e benvenuto. Ma siamo proprio in pieno tema, Venezia, che cosa impone l'UNESCO a Venezia? Il sindaco Brugnaro, Luigi Brugnaro è a Parigi proprio per incontrare i vertici dell'UNESCO che se non sbaglio insomma rivendicano delle norme, proprio perché Venezia è il sito patrimonio dell'UNESCO, all'interno delle quali già quest'estate avevano lanciato un allarme, se non rispettate certi requisiti rischiate di essere depennati dalla lista UNESCO. Proprio Brugnaro è a Parigi, qual è la vostra posizione in quanto operatori e residenti di Venezia? È evidente che l'UNESCO ha un amore particolare per Venezia, la sua opera è assolutamente apprezzabile e non dobbiamo perdere il riconoscimento che ci hanno assegnato. Ma potrebbe essere possibile, è pensabile? No, non penso assolutamente, penso che sia una minaccia perché l'UNESCO, innamorata di Venezia, chiede che vengano assunti alcuni provvedimenti. Chi ha letto il documento che è stato consegnato al sindaco, io sono tra questi, non può che rimanere però perplesso su alcune richieste, perché alcune richieste sono oggettivamente di difficile applicazione, lo stesso sindaco di Venezia non le può applicare perché sono normative di carattere nazionale che evidentemente vanno implementate. Faccio un esempio, il documento dell'UNESCO chiede la sostanziale eliminazione della croceristica a Venezia e questo non può che trovare discordi noi stessi evidentemente perché è giusto porre delle regolamentazioni della croceristica, è giusto magari anche uno spostamento rispetto all'attuale situazione o a Marghera o col porto offshore, certamente. All'UNESCO proprio prevede l'eliminazione totale della croceristica? Ma sostanzialmente sì, ma poi anche un'altra cosa, ad esempio il fatto che la proprietà privata, gli appartamenti dei veneziani debbano essere destinati solo unicamente alla fittanza ai locali, questo entra nella gestione della proprietà privata che sono vincoli che non è possibile, solo una legge nazionale potrebbe mettere, probabilmente sarebbe anticostituzionale. Sembra che era leggermente una legge di regime. Però sotto un altro aspetto, questo atto di dolore, questo richiamo forte fatto dall'UNESCO secondo me non va abbandonato né dalla politica né da chi come noi ad esempio rappresentano gli alberghi, l'UNESCO dice stop ai nuovi posti letto, mettiamo un limite, questo siamo perfettamente d'accordo nelle affittanze ai turisti da parte di chi ha la proprietà degli appartamenti, cerchiamo di limitare questa croceristica che a volte è assolutamente invadente, cioè se il tema è un grido di dolore rispetto a questi temi è evidente che secondo me il sindaco di Venezia non lo può dimenticare, non lo può sottacere. L'UNESCO ha una valenza consultiva di consiglio oppure il fatto di far parte del patrimonio UNESCO significa ricevere dei finanziamenti, quindi ha anche un potere in qualche modo normativo, pratico, oppure non lo so, se non si rispettano determinati requisiti, certo tipo di flusso di denaro viene ridotto, non lo so, è più un valore simbolico nel senso che uscire dai patrimoni dell'umanità gestiti dall'UNESCO evidentemente dà una dimensione del fatto che a Venezia ormai si è oltrepassato la soglia della tollerabilità di uno sviluppo di un'economia turistica portuale che oggettivamente adesso va preso in mano. Un elemento che sappiamo anche noi italiani, il fatto che ce lo ricordino è sempre importante, sono 30 anni che oramai manca un provvedimento strategico sul turismo a Venezia, si è lasciato fare sulla base di normative nazionali e c'è bisogno anche di interventi da parte del comune per regolare il turismo, non è mai stato fatto a nessuno, tocca a questa amministrazione perché ormai il problema è assolutamente ineludibile. Che cosa può fare un'amministrazione comunale che poi diventa anche un'amministrazione della città metropolitana per regolamentare questi flussi oppure deve applicare delle norme di concerto con la regione e magari anche con il governo? Guardi, quello che noi albergatori pensiamo è che vada divisi i flussi, non è possibile far sì che tutti possano entrare nel centro della città che sostanzialmente è Piazza Le Roma, oppure possano sbarcare praticamente in Piazza San Marco con le imbarcazioni che giungono dalla costa, dal ritorale, perché è evidente che si crea un problema proprio di flussi, di gestione dei flussi. Per cui come da tempo è stato segnalato anche da amministratori comunali, quasi vent'anni fa era stato fatto dall'ex assessore D'Agostino, era stato fatto un piano proprio per creare degli hub sulla terraferma in maniera tale che chi giunge da alberghi, da località che sono al di fuori della cintura urbana di Venezia, siano costretti a fermarsi in questi hub, parcheggiare la macchina e poi essere trasportati in zone periferiche della città. Però in questo modo si creano flussi di serie A, di serie B, cioè su che base si può decidere che qualcuno non deve vedere Piazza San Marco? No, ma sono le porte di entrata differenziate, cioè la porta di entrata... E come la flusso ad uno stadio ci sono tanti ingressi, non possono... Tanti ingressi, esattamente, è chiaro che chi dorme a Venezia ha l'ingresso alla tribuna centrale, allora se vogliamo avere lo stadio... Ma anche chi lavora a Venezia, chi vive a Venezia, in questo momento chi vive e chi lavora a Venezia in certi periodi dell'anno si sovrappone a flussi che sono ingestibili. E' anche la qualità del vivere e del lavorare a Venezia che diventa un problema, perché anche se l'avvocato non riesce a giungere, non si fa la causa evidentemente. E poi non lamentiamoci se ci sono le spinte per portare via i tribunali da Venezia o se ci sono le spinte per portare via l'università, perché se diventa praticamente ingestibile la possibilità di gestire questo tipo di attività, è evidente che poi la terraferma è la soluzione più pratica. Piccoli interventi di mitigazione di questi flussi si sono fatti. Mi viene in mente l'accesso differenziato tra residenti ad alcune linee di vaporetto. Avete avuto modo di verificare che qualcosa alleggerisca? Ma quello è stata una cosa intelligente. Alleggerisce qualcosa? Ma funziona? Sì, ma vedo che i veneziani tutto sommato sono contenti di questa innovazione, ma è soltanto un palliativo evidentemente. Il vero argomento principale è levare persone dal Canal Grande, ce ne sono troppe sul Canal Grande, bisogna farle entrare in città da altre porte più periferiche. Quindi ad esempio Fusina, un hub a Fusina, un hub presso l'aeroporto e poi alla fine il punto, il terminal diventa da un lato le fondamente nuove e dall'altro lato le zattere. E quindi punti d'accesso diversificati, ma nel Natale devono avere più quel caos che in questo momento c'è in alcuni periodi dell'anno e che avremo a Carnevale per quanto riguarda le piazzate. Ma come si fa? Ci vuole una campagna di comunicazione? Perché lei, rappresentante degli albergatori, lo sa meglio di me che se io gestisco un albergo sia in terraferma che magari o una qualsiasi struttura ricettiva a Venezia, dire ai miei clienti che arrivano a Fusina non è la stessa cosa che dire che arrivano a Piazzale Roma, il vecchio discorso delle navi che passavano in bacino San Marco, magari qualcuno andava in crociera per vedere... Se ne faranno anche una ragione, voglio dire... Sì, ma se ne faranno una ragione, voglio dire, perché accedere, nessuno vieta di entrare in città nel mio progetto. Quello che tra le cose illustrerò la commissione sui flussi prossimamente, commissione che è stata istituita dal Comune di Venezia. È un piano di Ava? Sì, sì, questo è un progetto di Ava, ma non fa altro che copiare un progetto del Comune di Venezia di vent'anni fa, per cui nulla assolutamente di nuovo. Che però non fu mai applicato. Non si è mai applicato, era un progetto fatto per il grande giubileo, i misteri della politica. Era un progetto fatto per il grande giubileo ed era un progetto per gestire i flussi derivanti dal grande giubileo dell'anno 2000, era un progetto che aveva finanziamenti anche a livello statale, poi svanite tutto. I misteri della politica o i misteri anche di troppi interessi, perché a Venezia ci sono anche tante realtà che confliggono. Può essere. Tante categorie che lavorano nell'ambito del turismo che confliggono. Ma più che, secondo me, di carattere urbanistico possono essere stati più che di carattere turistico, perché dal punto di vista turistico non vedo assolutamente gravi problemi. Certo, l'albergatore dirà che potrà vendere anche il parcheggio, magari l'albergatore di Treviso, che manda i suoi clienti in gita a Venezia. Magari vende anche il parcheggio, magari gli vende anche il biglietto del vaporetto che porta da Fusina fino alle Zattere. Ma non è vietare, significa ti faccio entrare da una porta diversa rispetto a quella di chi dorme a Venezia. Io lascio lo spazio alla pubblicità, poi torniamo su questo punto, perché mi è venuto così un'idea in mente, se ci possa essere un'analogia, come è stato rilanciato il traffico aereo attraverso meccanismi di low cost, magari accessi differenziati comportano magari anche dei risparmi, quindi uno può arrivare a Venezia spendendo meno. Torniamo tra un paio di minuti, sempre con Claudio Scarpa. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio, parliamo di Venezia, del monito Unesco, proprio in queste ore il sindaco di Venezia Luigi Brugnano si trova a Parigi per trattare sul monito dell'UNESCO e anche la possibilità di salvaguardare la città, ma salvaguardare anche l'attività economica legata al turismo e proprio di questi elementi stavamo parlando con il nostro ospite che è Claudio Scarpa, che è direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Dopo tanti anni sembra che siano tutti d'accordo sul fatto che ci siano troppi arrivi, troppe presenze a Venezia contemporaneamente in una città che comunque è una città piccola, perché magari uno pensa che girando per Calli e Campielli è un dedalo, ma in realtà la superficie è molto contenuta. Anche perché tutti vogliono andare alla stessa meta, poi alla fine l'area Rialto e Piazza San Marco. Questo è legittimo che tutti vogliono andare a Rialto e Piazza San Marco, ma quanto si paga anche lo scotto di una inesatta comunicazione delle bellezze di Venezia? Perché al di là di Piazza San Marco e Rialto Venezia è uno scrigno di tesori sparsi ovunque. A me capita qualche volta di incontrare persone in vaporetto che guardano con scetticismo la Giudecca piuttosto che le Zattere o magari la parte della Celestia e dell'Arsenale perché sembra un po'... In realtà lì c'è una Venezia che magari quando gli si indicano questi posti, gli si accompagnano, rimangono estasiati perché scoprono una Venezia che ha un sapore forse diverso. Quanto bisognerebbe? Allora lei prima sosteneva di questo progetto, prima cosa accessi differenziati alla città creando degli hub che però, lei prima parlava di Fusina, che siano degli hub decorosi, dove ci siano delle strutture, non possono essere delle città dell'incemento. Il turista che viene a Venezia deve essere trattato bene evidentemente, no ci mancherebbe altro, questo deve essere chiaro. In questo momento infatti non abbiamo solo dei parcheggi che sono una cosa diversa rispetto a un hub. Il turista pendolare, cioè colui che viene per poche ore a Venezia in gita, è il futuro cliente degli albergatori di Venezia, ma il futuro cliente stanziale della città, cioè uno che viene trattato bene torna, se invece viene maltrattato non torna più, per cui bisogna creare dei luoghi dove uno si senta accolto, non dove viene depositato o scaritato. Quanto sono maltrattati i turisti? Perché i veneziani si sentono maltrattati dalla presenza dei turisti. Però quanti veneziani maltrattano i turisti? Veneziani in senso di chi anche lavora a Venezia? Tutti, tutti, ma voglio dire quando il turismo poi è gestito male, è evidente che poi alla fin fine, da un lato c'è il rifiuto da parte, la repulsa da parte dei turisti, dei veneziani nei confronti dei turisti, ma è evidente, ma dall'altro lato il turista non ha una soddisfazione dell'accoglienza. Io penso che se ci fosse un city advisor, non un trip advisor, Venezia avrebbe una notevole serie di lamentele da parte dei turisti, ma non perché Venezia è scarsamente accogliente, ma perché non è gestita l'accoglienza, non lo è mai stata negli anni passati, non possiamo dar la colpa a questa giunta evidentemente. Però tocca a questa giunta adesso risolvere il problema, non è ineludibile, non si può andare avanti, perché i flussi aumentano anno dopo anno, la nuova apertura di ricettività nel centro storico dovuta al fatto che la legge regionale consente di affittare appartamenti e turisti anche per periodi brevi. Inevitabilmente aumenta il numero. Venezia è diventata più accessibile nel senso che ci sono opportunità a low cost? Certamente i prezzi sono diminuiti, notevoli, ma più che diventata più accessibile ha migliorato e ampliato l'offerta, nel senso che anche la famiglia di 4 persone, 5, 6 persone aveva difficoltà a sistemarsi in hotel e gli hotel dovevano sistemare. Il Green Maldello, la molla, comunque che costa meno, tutti si possono permettere oggi un viaggio a Venezia? Ma secondo me sì, a parte i periodi particolari, l'inaugurazione della Biennale, spero l'ultimo weekend di Carnevale, non abbiamo neanche dati concreti, però dovrebbero almeno due weekend, nel Capodanno. Sì, è andato assolutamente in maniera positiva. Questo a prescindere di chi affitta le case. Quindi evidentemente c'è una richiesta in mane. Ma sì, certo, chiaro. Venezia è richiesta, tutti vogliono venire a Venezia. Se si dà la possibilità di venire, vengono. Ma questo aumento del numero dei posti letto disponibili fa sì che giungano più turisti, ma dall'altro lato bisogna gestire questa accoglienza. Non si può dire mantengo gli stessi servizi avendo aumentato il numero delle presenze. Aumentano soprattutto i turisti pendolari, cioè quelli che vengono dalla mattina alla sera o vengono per poche ore perché è aumentata la ricettività anche in un'area vasta che va dalla riviera del Brenta, Treviso, Vicenza, Iesolo e via dicendo. Per cui bisogna dare un servizio a questi soggetti. Vengono in aree limitrofe e la Bragita Venezia. Solo tre turisti su dieci in realtà dormono a Venezia. Sette turisti che vengono a Venezia in realtà hanno dormito altrove, hanno dormito in un altro luogo e vengono solo per poche ore. Che tipologia di turisti sono coloro che pernottano fuori? Perché per esempio c'è il turista magari anche molto che investe poi quando arriva in città, magari sceglie la riviera o sceglie Treviso o sceglie il litorale, perché magari c'è stato varie volte a Venezia, vuole scoprire altre aree e ritorna a Venezia magari in alcuni punti. Sono turisti ricchi quelli che arrivano dalla terraferma o sono turisti che magari spendono meno in terraferma? In realtà la spesa del turista giornaliero, chiamiamolo così, del turista escursionista, cioè colui che viene a Venezia alla mattina alla sera è abbastanza bassa. Venezia vive dei turisti pernottanti, quasi il 70% del fatturato turistico lo fanno i turisti pernottanti a Venezia. Però detto questo, abbiamo una fascia di clienti che giunge a Venezia e dorme fuori per un semplicissimo motivo, che io comprendo perché è anche il motivo che mi spinge spesso a dormire quando nelle mie vacanze nelle periferie, perché arriva in macchina, arriva in macchina ed è comodo lasciare la macchina a Mestre e poi giungere con altri mezzi in città. Oppure perché i nostri mezzi ferroviari sono comodissimi, per cui lasciando la macchina a Vicenza, dall'albergo di Vicenza a Venezia in un'ora ci arrivi ed è una cosa fattibilissima. E quanto invece il fatto che non c'è un servizio di parcheggi, non sto parlando di Piazzale Roma o del Tronchetto? Creiamo questi hub dove c'è un servizio, anche se si dà un servizio alla clientela e li si fa arrivare. Perché poi anche, ripeto, non è certo una qualità del servizio il fatto di vedere chiuso il Ponte della Libertà per eccesso di persone in certi periodi d'estate. Poi abbiamo una seconda fascia di clienti che sono quelli che vanno nel litorale o al Lago di Garda e quando è il brutto tempo dicono, vabbè, cosa facciamo oggi? Non si può andare in spiaggia, non si può andare a vela nel Lago di Garda, allora cosa facciamo? Prendiamo la macchina e andiamo a Venezia e andiamo a visitare la città. E sono quei turisti occasionali che giungono, oppure che hanno un paio di ore libere e decidono di passare il pomeriggio a Venezia stando a Jesolo, stando a Bibione, stando a Caor. Anche questi sono tutti turisti, non si vogliono fare discriminazioni. Dico semplicemente che è giunto il momento di il numero è tale che bisogna cominciare a gestire. Tu entri da questa parte, tu entri da quell'altra. Proprio il concetto dello stadio, anzi glielo rubo perché è perfetto, il concetto dello stadio è proprio quello che va applicato. Non si può fare entrare tutti da un'unica porta, compreso tra le altre cose chi ha prenotato il posto in tribuna d'onore e chi ha comprato soltanto il posto ai popolari. Poniamoci anche nei panni di chi ha pagato 1.000-2.000 euro una suite in un albergo a 5 stelle lusso e si ritrova in una bolgia infernale. Non penso che sia la migliore. Può rimanere nella suite. No, no, ma voglio dire, il luogo d'accesso è sempre lo stesso per tutti, voglio dire. Cerchiamo di farci che siano diversi, voglio dire. Ovviamente, magari è un dato che lei non conosce, ma magari nel fare le statistiche, quanto incide nelle presenze che ci sono a Venezia l'afflusso di autoctoni, perché uno dice piove, vado a farmi una gita a Venezia, magari vive a Vicenza, vive, non è solo un turista, ma... Ma io questi li considero veneziani, per me i veneti sono tutti veneziani. Quindi loro possono accedere da tutte le parti? Ma sì, ma perché hanno l'imob, basta distribuire, c'è un imob e tutti i veneti hanno diritto ad avere l'imob, cioè quella carta che abilita i veneziani ad ottenere alcuni servizi, per cui, per me i veneti sono tutti veneziani, ci mancherebbe altro. Possono accedere da tutte le parti? Siamo tutti serenissimi, evidentemente. Si tratta soltanto di far entrare per una porta secondaria, ma non meno nobile, perché la si attrezza bene, e il turista, solo il turista. I veneziani e i veneti per me sono stessi... Lei parlava di Fusina, di questo piano, no? Fusina e l'aeroporto erano i due... Ecco, Fusina e l'aeroporto. Quanto può essere da stimolo, se io arrivo a Fusina o arrivo all'aeroporto, il fatto che poi vengo portata a Venezia via acqua, invece che via terra? Anche questo è bellissimo, l'acqua è il tragitto abituale, voglio dire, del veneziano, della Venezia. Invece potrebbe essere una... Ma certo, infatti, secondo me sì. Un input è interessante. Però voglio dire, siccome qualcuno parla anche di sub lagunare, io non sono tra quelli che dice... Beh, sub lagunare credo che sia un concetto separato. Si parlava vent'anni fa di sub lagunare e penso che... Ma io non voglio fare il maestro in esercizio, la politica decide. L'importante... Io credo che sub lagunare è un progetto... Anche secondo me la trasporto via acqua è assolutamente romantico, voglio dire, bello. Ma diventa proprio anche... Tu entri alla fine, perché poi noi abbiamo l'idea di Venezia che è la città, ma Venezia fusina poi a Porto Marghera ed è l'ingresso del mare e salire in una barca, tu arrivi a Venezia, salgo su una barca, arrivi e alla fine sei già in mare. Posso dire, se uno guarda le guide turistiche del 1700, non c'era il Ponte della Libertà, i turisti dell'epoca si fermavano, si fermavano, esattamente, e da il trasbordo e hanno scritto delle pagine bellissime rispetto a questo, voglio dire. Per cui non vedo assolutamente alcun problema, cioè il Ponte della Libertà è una cosa che è stata fatta nel 1936-37, quindi è una cosa assolutamente nuova per Venezia, quindi passare il Ponte della Libertà significa soltanto risparmiare un po' di tempo rispetto a quello che si potrebbe avere, ma il turista per definizione, voglio dire, i 20 minuti in più non penso siano un problema, soprattutto se sono ripagati da un paesaggio assolutamente stupendo. Quali altre idee come associazione di albergatori proponete? Quello degli itinerari periferici, secondo me, non battuti dal turismo, secondo me è un'idea estremamente intelligente, purtroppo non abbiamo in questo momento un organismo di promozione perché la Regione Veneto ha ripensato completamente le forme della promozione e mancando a Venezia un organismo che faccia promozione, purtroppo si mancano queste occasioni, bisognerà ripensarci insieme all'assessorato al turismo, perché voglio dire la chiesa di San Sebastiano che ha dei dipinti unici non penso l'abbia visitata più di qualche turista, è conosciuta... C'è sempre una parte che, le dicevo prima, la parte della marittima che poi è stata tutta... è stata riorganizzata, perché poi è meraviglioso anche vedere le aule di architettura, gli ex magazzini frigoriferi che sono... possiamo anche parlare di un esempio di un dox di archeologia industriale rivisitato, poi si passa attraverso le zatter, si può andare alla Giudecca, facendo un... sì, arrivando poi a punta della Dogana dove si vede comunque... Ci sono delle zone di Venezia dove il turista non mette pressoché piedi, allora proporgli, bisogna proporgli, non le conosce, lui... Ma voi come albergatori, perché adesso stavo anche pensando, gli itinerari periferici potrebbero essere un itinerario periferico dove magari uno trova la bottega artigiana, il locale, il baccaro dove mangiarsi il cicchetto, la pasticceria... Giustissimo, vanno unite le cose evidentemente, però su questo noi possiamo essere degli attori, ma possiamo essere degli attori, ci vuole un regista, la regia di solito è sempre l'ente comunale che la fa evidentemente, per cui è una cosa che proporremo. Adesso è stato costituito recentemente l'OGD, che è proprio l'organismo di gestione della destinazione turistica che dovrebbe occuparsi anche di questi temi, per cui sarà una delle cose che proporremo all'assessore al turismo nelle prossime riunioni, perché secondo me questo è un altro dei temi, far sì che dei turisti, la gran massa dei turisti non conosca solo Venezia per gli stereotipi di piazza San Marco, bellissima oggettivamente, ma Venezia non è solo quello, per cui proporre anche altri itinerari, magari a chi è già stato a San Marco una volta e vuole tornarci il giorno dopo magari e vuole vedere qualcosa di diverso, gli si può proporre ad esempio la chiesa, o perché no ad esempio il ghetto, il ghetto quest'anno con i 500 anni del ghetto, la commemorazione, perché non c'è nulla di allegro nell'apertura di un ghetto evidentemente, ma nel ricordo dei 500 anni del ghetto si è anche rivalutato il patrimonio del ghetto, che è costituito da sinagogue meravigliose tra le più antiche d'Europa, da una rete di negozi che ancora propongono artigianato artistico legato all'ebraismo, dal fatto che esistono alcune strutture ricettive, di cui una della comunità ebraica, tra le altre cose che sono afferenti al campo, dal fatto che c'è un museo ebraico che ci invidia tutto il mondo, per cui il fatto di avere acceso i riflettori su questo momento non certamente allegro è stato utilissimo dal punto di vista della conoscenza anche turistica dei luoghi, per cui secondo me questo è quello che bisogna fare, è uno degli argomenti principali. Come mai quando andiamo a Londra, o andiamo a Parigi, o andiamo a Berlino, andiamo a Londra, abbiamo Notting Hill, Portobello Road, Westminster, perché di queste città abbiamo delle aree ben chiare cosa troviamo e invece quando si parla di Venezia è una parola, Venezia, San Marco Rialto, eppure ci sono sei sestrieri che già se si pensassero, se si pensasse di abbinare sei sestrieri, la realtà che è contenuta nei singoli sestrieri, già Venezia sarebbe un po' come Roma e i sette colli. Sì, mi consente, amo lontantissimo Londra, una città che considero la mia seconda città, però detto questo hanno un centesimo del patrimonio artistico che Venezia ha. Però sono riusciti a delineare delle zone, come se in una bellissima città ci fossero dei quartieri con delle caratteristiche. Per Venezia nelle guide non ho questa, da veneziana probabilmente ce l'ho questa concezione, ma non mi sembra che ci sia la percezione di questa realtà, il ghetto piuttosto, sono cose che non sono comunicate. Si tratta di organizzare la promozione, evidentemente su questo è abbastanza semplice da fare, nel senso che va organizzata la promozione. Ripeto, l'organizzazione della gestione della destinazione turistica, questo organismo dovrebbe essere il colui che fa queste cose. Però detto questo, ripeto, a mio modo di vedere Londra, che città che conosco benissimo, ha degli splendidi monumenti, però Venezia nella sua area realtina, San Marco, Rialto, ha delle cose che sono... Lei mi dà il là di come si dà visibilità a qualcosa, Portobello Roda è una strada con quattro mercativi, se vogliamo. Guardi, l'ho scoperto in Francia, in Francia e in Spagna, in Spagna sono andato a Chirona al museo ebraico locale e ho scoperto che di quattro pietre che rimangono, quattro pietre in tutto, hanno fatto un enorme gigantesco museo ebraico, ma il nostro in confronto... Quando uno arriva a Piazzale Roma in questi hub... Sono bravi a vendere, voglio dire. Non c'è la percezione di come sia strutturata. Io credo che se andiamo a chiedere al turista medio, non sa nemmeno che Venezia è fatta ad una forma di pesce e che una punta è un'altra punta, cioè che si congiungono. Ho questa sensazione di... Ma che vada comunicato meglio a questo sicuramente, abbiamo dei grossi difetti, anche perché è un'opinione mia personale, il fatto di essere una destinazione in cui tutti vogliono andare fa sì che ci sia meno volontà di comunicare, voglio dire. Secondo me è sbagliato, perché poi alla fine queste cose si pagano, quindi in ogni caso la comunicazione, la promozione, la partecipazione alle fiere per comunicare proprio queste cose, questi attenerari alternativi, guardate che c'è una Venezia diversa. Come associazione di albergatori lo fate? I singoli alberghi propongono magari... Noi abbiamo come compito evidentemente quello della protezione sindacale della rappresentanza della categoria, non come quello principale di quello della promozione turistica del territorio che aspetta il territorio comunale. Però detto questo... Ovviamente sa cosa fanno gli associati che tutelate. Ogni albergo ha il suo sito e ogni albergo ha una promozione del territorio, ma a brevissimo termine, e do una notizia, a brevissimo termine, veramente a brevissimo termine, avremo pronto il sito di prenotazione alberghiera che sarà anche un sito di promozione del territorio, cioè viene a Venezia perché c'è qualcosa, ci saranno gli itinerari alternativi... Ci saranno anche gli itinerari alternativi, ci saranno anche il fatto che viene a Venezia da un'altra porta d'ingresso e non quella da... Insomma, tutta una serie di incentivi, attento che in questo periodo dell'anno rischi di non trovare posto, di avere una visita non soddisfacente, insomma tutta una serie di informazioni... C'è il motivo per cui si lamentino gli albergatori, ci sono presenze, il 99% sta arrivando il carnevale, c'è la biennale d'arte... Sì, però nel senso che ad esempio c'è una concorrenza sleale da parte di chi affitta appartamenti, non tutti evidentemente, anzi tutt'altro evidentemente, però alcuni di questi soggetti, l'abbiamo visto con l'indagine della Guardia di Finanza, alcuni di questi soggetti evadono tutto, evadono le tasse... Però se non sbaglio adesso c'è anche una nuova legge che riguarda, che pone delle restrizioni per chi fa l'affitta a camera, per chi ha dei bed and breakfast... È in itiner, ci sono proposte, però al momento attuale approvato non c'è assolutamente nulla, però detto questo possiamo certamente dire che chi evade le tasse evade gli obblighi, però ce ne sono parecchi, la Guardia di Finanza ne ha scoperti una valanga, voglio dire, allora su questo evidentemente non possiamo che dire, questa è una forma di concorrenza sleale e quindi questa... Quanti posti letto in più non sleali, leali si sono creati con la legge... Beh, ormai la ricettività a Venezia è a metà e metà, circa 18 mila, vado così adatto molto grezzo, 18 mila posti letto alberghieri, 18 mila posti letto extra alberghieri, però quello che non importa non è quelli che sono regolari, quelli che sono regolari... Anche perché avete effetti di mercato diverse... Sì, effetti di mercato... Il problema è chi è totalmente irregolare, perché veda, mentre chi va in albergo ha la normativa antincendi rispettata, ha la normativa igienico-sanitaria rispettata... La segnalazione in questura dell'ospite... Esattamente, la segnalazione in questura dell'ospite e tutta una serie, la privacy, tutta una serie di tutele e di garanzie che, voglio dire, fanno parte anche del costo, sa che anche l'albergatore paga le tasse, tra le altre cose, paga la tassa di soggiorno e chi invece evade tutto, evade la tasse di soggiorno, evade le tasse... No, ma beh, qui siamo nella relazione illegale... Ma a Venezia la Guardia di Finanza ha dimostrato che ce ne sono veramente tanti, voglio dire. Allora, su questo non possiamo che dire grazie alla Guardia di Finanza e invitare la Guardia di Finanza, ma anche i vigili urbani ad essere particolarmente attenti a questo tema, perché questo sì, fa del male, non solo a noi, fa del male a noi, ma anche agli appartamenti regolari, a chi vede merda regolari... Però, siamo in chiusura, il carnevale si presenta bene, mi pare. Ma abbiamo due weekend in cui i prezzi sono abbastanza alti e quindi fanno sperare in un buon afflusso, sui giorni feriali ancora siamo un po' incerti. Io ringrazio Claudio Scarpa per questa riflessione che noi ripetiamo su Venezia, le ipotesi che si vettono su il piatto, ringrazio voi per essere rimasti con noi questa mattina, grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.